Dal tumore agli ori mondiali, come in un film, anzi, come in una vita che diventa un film. Protagonista Paolo Pizzo, schermidore, due volte campione del mondo, catanese di origine. Una storia umana e sportiva che su Rete Sole abbiamo raccontato molto spesso, soprattutto all'interno della trasmissione Vite da campioni. La stoccata vincente per la regia di Nicola Campiotti celebra il suo percorso, la sua crescita, il suo riscatto sulla vita. La lotta contro un cancro al cervello e poi quel sogno, cullato e conquistato, di vincere in pedana con in mano la sua spada. Nel film Paolo è interpretato da Alessio Vassallo, siciliano come lo schermidore, mentre suo padre, Coch, è portato in scena da Flavio Insinna. Nella scherma di Paolo c'è più rabbia che agonismo. Nel lungo percorso verso la vittoria del primo mondiale nel 2011, Pizzo riuscirà a controllare la rabbia e a liberarsi della sua paura più grande, quella per la malattia, non vergognarsi e la sua stoccata vincente. Pizzo ha conquistato l'oro mondiale anche nel 2017, a 34 anni. Lui che lo sport ce l'ha avuto sempre nel sangue. Nonno Paolo, nuotatore, pallavolista, apneista e schermidore. Nonna Liliana, da giovane campionessa di nuoto e di lancio del disco e poi allenatrice di squadre di pallavolo fino ai suoi 80 anni. Oggi Paolo Pizzo è marito di Lavinia Bonesio e padre di due bambine Elena e Nicole. La stoccata vincente è ispirato all'autobiografia dell'atleta che durante la presentazione del film TV ispirato alla sua storia ha spiegato «Tutti abbiamo delle cicatrici e non sempre siamo in grado di rimarginarle e passare oltre. Quando passi un'esperienza come quella che ho vissuto io, spiega Paolo, senti sempre che c'è qualcosa in te che non sarà mai a posto, nemmeno sul gradino più alto del podio più importante del mondo». «Tutti abbiamo delle cicatrici e non sempre siamo in grado di rimarginarle e passare oltre.